Il 21 ed il 22 aprile si voterà per il rinnovo della presidenza della regione Friuli Venezia Giulia e del consiglio regionale. Siamo con il presidente Renzo Tondo, candidato anche per il centrodestra. Presidente, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno a voi. A livello nazionale vediamo che la situazione è abbastanza incerta, preoccupante, la crisi continua a mordere, il PD e il centrosinistra non stanno riuscendo a trovare la quadra, addirittura si parla di risse verbali tra Bersani e Renzi a livello regionale, dove appunto si andrà a votare anche il PD e il centrosinistra con la loro candidata. Non sembrano avere un'idea politica ancora molto chiara, la Serracchiani sta cercando il vento dell'opportunità, ha iniziato una campagna elettorale vicina a Bersani, adesso si sta spostando più verso Renzi, lei sta comunicando che in regione Friuli Venezia Giulia non bisogna cercare avventure, cosa intende? A me pare che il PD sia in stato confusionale dappertutto, è in stato confusionale a Roma dove non si capisce che cosa voglia proporre al paese, è in stato confusionale qui dove la Serracchiani prima si fa fotografare sotto braccio da Bersani, poi fa venire Renzi, dopo aver detto che non stava né con uno né con l'altro, mi sembra un partito che è la ricerca solo di un'ostilità nei confronti del PDL e del centrodestra di Berlusconi, ma di fatto non riesce a proporre un'uscita dalla crisi, ma neanche dalla crisi del governo, non solo dalla crisi del paese. A questo punto credo che noi abbiamo la responsabilità di non consegnare questa regione a chi ancora non ha chiaro come cominciare a amministrarla, noi continuiamo un'opera positiva che abbiamo fatto in questi 5 anni e ci ricandidiamo a continuare con serietà e con onestà un lavoro che ha dato i propri frutti. Presidente, tra i suoi competitor c'è anche il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo che comunque a livello nazionale non sta dando un esempio di responsabilità, soprattutto in questo periodo molto difficile. Io considero vergognoso il fatto che un partito chieda i voti, li ottenga e poi li butti nel cestino, dicendo che non vuole governare con nessun altro, però non ha la maggioranza per governare, proponendo solamente la distruzione del sistema, devono andare a casa tutti, io credo che i cittadini del Friuli Nazia Giulia si aspettino risposte ai problemi della crisi, all'occupazione, alle infrastrutture, ai servizi che questa regione ha, non solamente un grido che viene da Genova di uno che arriverà qui nei prossimi giorni con la barchetta e poi ripartirà. Presidente Sondo, tra i suoi competitor c'è anche un'altra regione, come vede questa forza politica che comunque è vicina al centro-destra? È una forza politica che nasce da una scissione personalissima del centro-destra triestino, oggi deve essere chiaro una cosa, chi vota centro-destra, chi vuole centro-destra al governo deve votare Rezzo Tondo, votare oggi Franco Bandelli e un'altra regione significa solo aiutare la Seracchiani, solo far vincere la sinistra, mi pare un voto sprecato, un voto buttato via, un voto dannoso per la comunità del Friuli Nazia Giulia e della provincia della città di Trieste. Ha sempre detto che l'azione di governo della sua amministrazione in questi 5 anni è stata molto incisiva, si sono fatte le riforme nonostante un quadro molto complesso, quale sarà il motore propulsore dell'azione dei prossimi 5 anni? Noi abbiamo messo in sicurezza il bilancio di questa regione, abbiamo iniziato la stagione infrastrutture come pochi, abbiamo fatto servizi importanti nel settore della sanità, penso semplicemente alle risorse messe a disposizione delle persone più deboli con la carta famiglia, con il mondo del lavoro. La prossima legislatura deve essere necessariamente la legislatura della ripartenza, la ripartenza dopo la crisi, lo sviluppo, creare posti di lavoro e già a giugno si vedrà la nostra buona volontà quando al primo assestamento di bilancio metteremo tutte le risorse sul lavoro.